...della Piga d'A, io non so se partiranno tutte le sue eventi separati perché è la rilisa della Comera che leggeranno queste partenze, comunque vedo la piazza veramente molto accollata, per dire che è l'invenzione del Soleil Cristiano. Un premio particolare andrà il primo alla prima classificata, il capo maschile e il capo femminile, ci sarà un premio alla visina con il maggior numero di donazioni. ...della Piga d'A, la seguire per il corso lungo e per il corso corto. ... 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